Adesso attendiamo tutti, credo con piacere, l'esecuzione di Adeste Fideles del famoso brano Natalizio e vorrei che fosse diretto dall'autore della Armonizzazione, il maestro Domenico Bartolucci. Grazie a tutti, grande storico maestro della Cappella Sistina, novantenne, che però ha l'animo eternamente giovane. Auguri e grazie maestro. Grazie. 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 Grazie ancora al maestro Bartolucci per questo bis che ci ha gentilmente concesso. Grazie a tutti, grazie ancora a sua eminenza, Cardinato Arcisio Bertone. Buonanotte. Buonanotte.